imminente l'arresto del feroce criminale. Tracce di sangue reperite sulle calze con cui ha strangolato la vittima hanno permesso l'esatta individuazione del gruppo sanguigno dell'assassino il cui DNA risulta il CH2268. Speriamo che questa notizia sia conversata perché per chi inquirenti sarebbe molto facile risalire all'identità del mostro. Il test del DNA infatti è il prodotto. È il mio.